musica 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 class numero uno musica musica Sì, 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 se le piace sì, guarda, guarda, rispondo io, certo, perché, perché è morta, se chiedi a me non sono i giorni che hanno, quindi a posso sia, è della sua vedova, no allora no, no allora non può, perché è morta, perché le celebre è morta, No no no, fammi un'altra domanda, fammi un'altra domanda Due bottiglie e mezzo, allora, eh, il numero? Sette e mezzo Sette e mezzo Sette e mezzo Tre e mezzo Sei litri e mezzo Sei litri e mezzo Sette e mezzo Quindici Non ho scattato Sette e sei Sette virgola cinque Una bottiglia continua in tre bottiglie Dipende da quanto vuoi continuare una bottiglia Ma che gasto di? Sei litri Sette Ma io sono in mezzo Sette Sette Ma io sono in mezzo A me mi interessa solo l'acqua, fai un'altra domanda Nove Tre 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 Fai una domanda Tre 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 Quedici Tre Sette Ahah Sei 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 Non lo so però mi piace me lo scopo Io uso sempre la missionaria che va sempre bene Raga ma che cazzo le domande sono? Guarda i documenti e tu la schiaffecci sul culo Io sono esperto Beh sicuramente sulla segreteria Lei sul tavolo appoggiata e io te lo sbaglio A pecora al 90 Ficca il libro, vi ferò la batteria Le odierò la polizia E per sempre sboccerò